ciao ciao a tutti nel video di oggi vi mostro quel famoso pacchetto che ero in attesa di ricevere e di cui vi avevo preannunciato nell'ultimo video che ho registrato sui prodotti acquistati nel mese di luglio e per chi se la fosse perso vi metto il link qui sotto quindi appunto il pacchetto è arrivato e io sono veramente tanto tanto contenta di aver fatto questo questo acquisto e mi sento anche emozionata nel parlarne perché si tratta di cosmetici di un'azienda nata di recente è creata da una ragazza che ho conosciuto diverso tempo fa attraverso facebook e il gruppo scambio perché era stata colei che ha creato quel gruppo che ci ha permesso di scambiare prodotti conoscere nuovi prodotti ma anche conoscere nuove persone e sto parlando di tatiana o tati bio review perché lì anche un canale youtube per chi ancora non la conoscessi vi metto il link qui sotto e dalla sua passione nei confronti della cosmesi naturale e ha creato questa azienda il nome è sezione aurea appunto la critica di tatiana colella e c'è una pagina facebook un canale youtube e anche un sito ufficiale sezione aurea cosmetics punto e ti io tutti questi link ovviamente ve li metto qui sotto così per chi forse curioso di andare a può andare a spicciare le varie sezioni io tra l'altro tatiana ha avuto anche la possibilità di conoscerla l'anno scorso quando nel periodo dell'atrizio sono scesa giù a bari quindi è un'azienda nata nel sud italia e ci ha sorpresi tutti quando ha annunciato la nascita di sezione aurea di questa azienda che per ora è partita con la realizzazione di cosmetici per la cura dei capelli e se guardate le andate a vedere il suo canale capirete anche il motivo per cui partita da questo tipo di prodotti poi non so se ingrandirà io ecco lo spero di spero di sì spero anche che insomma riesca ad andare avanti e ad avere tutta la fortuna che le serve scusatemi io mi sento veramente emozionata nel girare questo video sarà la quinta stessa volta che ci provo ma divento ripetitiva e la mia emozione è data proprio da la mia felicità nei confronti di questa ragazza e di quello che le è riuscita a realizzare partendo da un sogno da una passione ed è qualcosa che io stesso spero di diciamo poter realizzare per me stessa i miei sogni così come tante persone che hanno dei desideri di realizzazione di un qualcosa penso che tutti quanti ci possiamo rivedere lei lei ci è riuscita e quindi lo auguro a tutti anche a me stessa ecco questo quindi l'emozione è anche la non so sono proprio contenta per per lei e anche per noi in realtà perché conoscendola e sapendo la sua filosofia di come ecco dovrebbero essere i cosmetici sono contenta che abbia proprio messo diciamo in pratica queste sue idee perché adesso i prodotti li ho appena comprati e li proverò ho tante aspettative ho già letto tante recensioni tutte molto positive però se è così ecco è bello diciamo avere a che fare con un'azienda sicura perché comunque rispecchia anche i miei ideali allora i vari prodotti sono venduti per ora in alcuni rivenditori cioè e-commerce e bioprofumerie anche fisiche e nel sito ufficiale trovate l'elenco che piano piano immagino si ingrandirà anche perché appunto è un'azienda nata da pochissimo però recentemente Tadiana ha dato la possibilità in onore mi pare del primo mese credo fosse di nascita della sua azienda di poter acquistare i prodotti direttamente da lei scontati se non ricordo male il 10 per cento con spedizione di spedizione gratis dopo i 30 euro insomma ha dato questa possibilità e io ne ho assolutamente approfittato perché non volevo fare ordini da altri e-commerce più che altro perché in questo momento non avevo bisogno di comprare altro e di solito io cerco di attutire le spese di spedizione quindi quando gli ha dato questa possibilità mi si sono fiumdata proprio per comprare anche quello di cui avevo bisogno allora vi mostro i prodotti così vi mostro anche fisicamente di cosa sto parlando allora il primo prodotto che ho comprato è stato lo shampoo di vino giuliana anticaduta e antifofora allora se andate a vedere sul suo canale youtube di sezione aurea ovviamente vedrete spiegati nei dettagli questi prodotti ogni prodotto ha il nome di una persona speciale per per tatiana inoltre su ogni prodotto c'è anche una frase dedicata questi fraconcini sono tutti quadrati hanno veramente un packaging molto elegante tra l'altro quando li ho visti dal vivo sono ancora più belli sono anche piccolini quindi non occupano tanto spazio però contengono 200 ml di prodotto quindi va benissimo e io questo shampoo anche se antiforforo che su tatiana va bene anche per la cute grassa anche perché già altre ragazze con cute grassa l'hanno provato e si stanno trovando bene quindi l'ho preso per me essendo uno shampoo che ai strati di ortica e bardana che servono a regolare la produzione di sebo inoltre dopo come afferma tatiana questo shampoo dovrebbe si lavare bene i capelli però non aggredendoli che è spesso il rischio di quando si utilizzano questi shampoo anti forfora o per capelli grassi quindi l'ho voluto provare e mentre stavo spacchettando il pacco mio compagno ha subito visto lo shampoo e subito mi fa ma quello è lo shampoo per me un attimo io sono gelosa di questo prodotto no sto scherzando nel senso non ho ancora aperto non so se fa schiuma non schiuma il pacco mi è arrivato ieri oggi un attimo di tempo per farvi video anche se avendolo rifatto sei volte vabbè quell'attimo di tempo è diventato un'ora e quindi poi quando li avrò provato e quando avrò provato anche la prodotti prodotti che adesso vi farò vedere ovviamente vi farò recensioni ve ne parlerò in dettaglio vi farò anche se riesco qualche foto nel frattempo o qualche piccola indicazione me la darò attraverso gli altri social quindi poi ve ne parlerò bene e sì io l'ho preso anche per lui però lui tende a usarne tanto di prodotto anche se spesso questi cosmetici con boninci naturali e con bio spesso sono concentrati quindi vedrò prima lo provo io anche perché lui ha uno shampoo antiforfora suo che sta ancora finendo lo testerò io se mi piacerà tanto 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 gliene comprerò un altro perché questo è mio però sì lo utilizzeremo insieme poi dopo lo shampoo serve il balsamo anche perché quello che ho sto finendo è il balsamo si chiama anna balsamo divino districante per capelli morbidi che ho chiesto anche a tatiana informazioni non è pesante quindi andrebbe bene anche il mio tipo di capelli che sono molto sottili e non hanno non hanno volume quindi anche di questo vi farò sapere poi quando vi farò recensioni vi leggerò in dettaglio le frasi e che non voglio far diventare questo video troppo troppo lungo è più di presentazione poi appunto piano piano ve ne parlerò e poi il prodotto di cui ero più curiosa di cui sono più curiosa è la crema di vino tati dal dal suo nome per lo styling per rendere i capelli ricci io ho già visto altre foto di altre ragazze che avevano anche i capelli mossi li ho visti molto più ricci ben formati quindi spero che funzioni anche su di me ecco il telefono è tornato tra rimesso a fuoco scusatemi questi ultimi due video non so come fare ma il mio telefono mi sta salutando vabbè quindi tati e lei poi tatiana è stata così gentile che mi ha regalato un prodotto ed è questo tiziana la lozione divina per chiome brillanti che serve per rendere lucide le chiome anti crespo per renderle morbide e su altri social letto anche che se in effetti sarebbe una nozione perfetta nel periodo in cui si va spesso al mare si espongono i capelli al sole infatti nei giorni in cui partirò in quei pochi giorni comunque sicuramente questo lo porterò con me per provarlo e praticamente questi sono tutti i prodotti tranne uno della di sezione ora l'ultimo di cui poi tatiana mi ha dato campioncino è lo shampoo di vino lara alla cheratina uno shampoo rinforzante che io per ora non acquistato perché mentre il shampoo diciamo per i capelli grassi li ho finiti ho altri shampoo quelli più delicati che io alterno quindi questo lo proverò in campioncino e poi vedrò prossimamente se acquistarlo ecco quindi questo è il mio ordine non lo so sono veramente bellini anche da da vedere anche il luogo bello penso che ci sia stato tanto tanto lavoro dietro ed è fantastico a vederlo qui realizzato se voi già avete provato qualcosa fatemi sapere se avete delle domande in più chiedetemi eventualmente le rigiro a tatiana che spero anche di poter vedere prima o poi quando io avrò tempo di scendere giù a bari e stare un po più di giorni non vedo l'ora di provarli ecco spero che lo so questo video e tanti è sì sì è l'emozione è proprio sono veramente emozionata va bene è così per chi mi conosce sa che io sono anche emotiva quindi spero che questo video anche vi abbia fatto piacere e incuriosito su questa nuova azienda se vorrete ci vediamo nei prossimi video ciao